a partire dal 2009. Aveva fatto soltanto tre giri di installazione. Nelle immagini esclusiva di RaiSport vedete il salto del meccanico che riceve una scossa pesantissima appena schiora la carrozzeria in fibra di carbonio, potente conduttore elettrico. Una scossa elettrostatica, hanno precisato la BMW, ma se pensate che nel KERS si parla di tensioni tra i 250 e i 650 Volt, si può ben capire il rischio corso dal meccanico.